Un saluto a tutti, sono David Thorn, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino. In un anno così importante per l'Italia come quello del 150esimo anniversario delle unità, c'è un'altra importante data che vogliamo celebrare. I due 115 anni trascorsi dalla nascita dell'amicizia tra gli Stati Uniti ed America e il regno delle due Sicilie. Si tratta di una ricorrenza particolarmente significativa, soprattutto perché quella di Napoli è la più antica sede di rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti in Italia e la settima in tutto il mondo. In occasione di questa giornata voglio ricordare che oggi, come allora, l'Italia meridionale e gli Stati Uniti sono legati da un profondo legame ed amicizia e da una grande collaborazione in campo culturale, commerciale e militare. Intere generazioni di italo-americani hanno contribuito alla formazione degli Stati Uniti e allo stesso modo la presenza americana è parte integrante della cottura e della storia di Napoli e del Mezzogiorno. Nell'augurare a tutti gli italiani un sereno Natale e un felice anno nuovo, vi invito a celebrare insieme a noi questa antica e grande alleanza. Grazie. Grazie.